buongiorno coccodrilli no vabbè sta pieno mamma mia ragazzi che bella qua sì 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 è venerdì sì 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 è venerdì sì che bello bellissimo risveglio in alta quota c'è il pan di zucchero zuccherata zuccherosa tu chi c'è il pan di zucchero girate va più di più indietro ancora ancora vai questo era il bagno delle mucche ma stanno parecchie chi sa che ha mangiato ma no sta pieno mamma mia bello la merenda del campione che spettacolo e te lo sei meritato però sì porca miseria parecchio se non ti c***o che bella poppita qua che spettacolo l'italia l'italia che borghi sei contento se è tornato come no non sei contento ma di cui mi pare che tu già hai mangiato guarda che lavoro mamma mia guarda quanto hai mangiato eh eh che hai mangiato ho mangiato le frittelle e il patate ah non le fegato poi e poi i tagliatelli e poi e dopo e dopo oh ecco il benvenuto come stai bene come stai come un coglione come stai come un coglione come un coglione come un coglione come un coglione come 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 un coglione come un coglione oh allora stai bene a posto di che vogliamo parlare tagliatella fatta a mano con chianina nonno ma che paio è nonno oh no la spallare lì eh di harry potter o no chi era tre lettere oh oh no chi è io chi tre lettere pio ron ron di harry potter pio portiere di un armadio un armadio o no ante le ante eh ante tanti è uno eh sì non sei tanto convinto l'angelo le ha scolpite in testa a musè le cose che mettiamo le madonna le tavole no no perché l'angelo le ha scolpite in testa a musè mica lì che ha la religione che scolpiva lì lo tu ha scolpito la madonna che l'ha fatto col bambino testa a musè però ne sapete una le palle no le palle sopra la testa di musè no è vero io non l'ho vista mai della moto morini del brodo come della moto morini col brodo lui ce l'ha la moto morini il motore della moto morini col brodo il brodo ma questo è facile col brodo che è? che è? mi hanno avviso ne sapete una la moto mori col brodo io ce l'ha ce l'ha aspetta ce l'ha sarà il serbatoio? un po' guarda se c'entra serbatoio serbatoio oh no però svegliete oh no ma che svegliete che cazzo no no canto marziale o religioso quattro lettere la 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 satana dance si mi sa la la satana dance la satana dance no io non so a parte di di satana oggi tutte le cose si ne è vero il portellone del caravan a 16 valvole no che è o no il portellone del caravan a 16 valvole 16 valvole il portellone che è? nonno il bilanciere che è? nonno che è? non so mica c'ha il caravan o no oh no oh no oh se nulla finisce da rompi il coglione me ne vuoi e dov'è? eh vuole l'antropa e minacce no però eh cioè veramente questo è rasenta veramente la ma ascolta una cosa ma poi che ti vuoi dire come fa a urlare? hai dormito? eh come sei messo a sudoku? andò nella casa incredibile attenzione se ne va è salato ti piace? no perché? salato fortunamente piace è salato ma l'hai mangiato ma è buono ma è salato è buono salato oppure non ti piace il salato ti piaceva non ti piace davvero il salato questo è un prosciutto che c'è troppo sale che tocca fai niente che gli facciamo eh eh vittolo via eh oh no eh che gli facciamo niente mangi che gli facciamo mangiato un po' sui giornali chi c'è? vediamo se riconosce questo chi è? Marco questa? ciao Marco ciao bella bea meglio meglio ciao Marco ciao bea no fa un saluto meglio voglio affanculo te no ma perché? saluta quelli saluta quelli meglio meglio come meglio ma di come? vabbè ma sei un po' scurrito ma non posso mandare straordinaria è riaperto lo store www.carlettolife.com adesso c'è tutto tutte le disponibilità tutte le taglie fate swipe up perché a settembre farò un a settembre metto in palio un giro in Abarth più pranzo a casa mia per un fortunato di voi quindi fate swipe partecipate al contest basta acquistare un articolo guardatelo al telefono sera fa le chiamate Filiberto guardatelo vede come le ti è impulite le vite come la zappa come la zappa con questo è un telefono ma con questo è l'osa guarda che bello attento attento basta fermo ora ti metto dentro la botte vedo ah che il vicino va via è rossato certo che come te veniva buono di che sapeva ora ti dicevo le vite cammina di che ne sapeva di vino di che e poi ma va no c'è un macchinario apposta che gira la bottiglia toglie il tappo c'è il sensore che riconosce il cambio tra solido e liquido quindi appena esce lieviti va ritappare la bottiglia capito viene riempito con il vino e altri due grammi di zucchero quindi mancanti per arrivare a cinque tappo di zucchero etichetta confezionamento e via e altri quattro mesi d'attesa perché comunque quando vai a raggiungere dicono eh che che è la f*** nooo che è o no che sono medio secche ma non c'è f***e secche oh che è e fermati sbugnando la pastia guardiamo che lampadina bello di qui si beve tu conosci i vini ma le beve queste vai vai eccoli che bravi brava celeste ci ha portato il prosciuttino nonno faustino nonno faustino magniamo il fu si e voglio hanno mangiato una fetta no tre dicetemi un po' ma me ne schifate sieteci da scrocca al vino anche in Toscana eh vabbè che siete il numero uno al mondo campione del mondo e olimpico e scroccaggio ma dico me ne schifate proprio eh dici che siete a stemio non è vero allora eh bugiardo bugiardone schifatevele oh tu guarda se bevo o non bevo questo adesso è voto e tu montati qui e va a Parigi finalmente mio fratello l'acqua era ora era ora era ora uscito dal covid scusami scusami proprietario delle fattorie numero uno grandissimo amico grande ma sono scivolato anche la patatina eh il magnone eh però per tirare sul bicchiere non te faceva male il braccio eh il braccio eh e ma è vero sta di qua trinchella